Ristretto Italiano. Le news dal mondo sull'Italia. Vittima perpetua. La Meloni vede nemici ovunque. Il primo ministro italiano vede fantasmi dappertutto, titola l'austriaco Der Standard, elencando in un servizio, che alla fine risulta tristemente comico, i presunti complotti contro di lei e il suo governo immaginati in questi due anni al potere. Buongiorno a tutti, ultimo episodio della settimana di Ristretto Italiano e per quanto riguarda i presunti complotti contro di lei immaginati, l'ultimo in ordine di tempo, scrive Der Standard, sarebbe quello che ha portato ad allontanare i quattro agenti di polizia del primo piano di Palazzo Chigi dove lei ai suoi uffici. Sono lì a tutela dell'istituzione, ma lei li vede anche come possibilità per funzionare infedeli capaci di fare traperare affari interni, capaci di diffondere in giro quello che si dice nelle segrete stanze. La portavoce della Premier ha precisato che gli agenti sono stati assegnati ad altri compiti più impegnativi, senza quindi negare la circostanza, e i sindacati di polizia invece da parte loro cominciano a parlare di un affronto senza precedenti. Gli attuali governanti italiani vedono forze oscure ovunque, scrive la testata austriaca, come quando per l'affare San Giuliano la prima cosa che si sono chiesti è chi possa avere tirato nell'ombra i fili usando Maria Rosaria Boccia come una trappola al miele per i loro scopi politici. La storia quindi del famoso carro di buoi non è nemmeno stata considerata a Palazzo Chigi quando sentono rumore di zoccoli prima che ai cavalli pensano alle zebre. E poi c'è il falso scopestivo del giornale che in un articolo di due pagine aveva ipotizzato un complotto dei procuratori, tutti naturalmente della sinistra, pronti a fare partire uno scandalo contro Arianna Meloni, la sorella. E la narrazione è sempre la stessa, nonostante i successi reali macinati in questi due anni che potrebbero renderla anche un po' più fiduciosa in se stessa, la dovrebbero fortificare. Insomma, ancora i poteri forti delle sinistre nazionali e mondiali non si sarebbero rassegnati davanti al fatto che la destra postfascista possa governare l'Italia, che la destra postfascista possa essere anch'essa una forza democratica, là dove i poteri forti sono sempre i Soros, le multinazionali, i massoni, gli operai senza patria, i burocrati di Bruxelles, i dipendenti israeli, in poche parole, il sistema. E questo, il vittimismo costante, conclude Der Standard, è la debolezza politica più grande della premiera italiana che stanca anche gli osservatori simpatizzanti. Per rimanere alla politica italiana ad essa stupore, anche fuori dai nostri confini o forse più all'estero che in Italia, che la notizia, che come titola l'agenzia spagnola EFE, la nipote di Mussolini abbandona la Meloni per forza Italia più moderata e centrista. Che, una che si chiami Mussolini, si allontani dal calore familiare della fiamma, un po' notizia lo è. Qui, attenzione, non si parla della nipote Alessandra, che in forza Italia c'è da sempre, ma della sorellina più giovane, Rachele, consigliera comunale a Roma, anzi c'è da dire la consigliera nell'ultima tornata più votata. Rachele Mussolini, per la quale Fratelli d'Italia ha posizioni troppo estreme, soprattutto sui diritti civili, per questo si sente più rappresentata dal partito dei Berlusconi guidato da Tajani. Giunta, come dicevo, al secondo mandato in Campidoglio, Rachele Mussolini è nipote del duce in quanto figlia del figlio romano, sorella, come vi dicevo, ma solo per parte di padre della più matura Alessandra. I più maligni affermano che l'allontanamento sia seguito alla mancata candidatura alle scorse europee. Lei dice di essere stata lei a fare un passo indietro. Sta di fatto che, come scrive F.E., che già ad agosto, durante la famosa polemica sulla pugile intersessuale alle Olimpiadi, accusò i suoi ormai ex compagni di partito di avere condotto una campagna denigratoria. E sorprende degli osservatori stranieri il giro di vite contro gli occupanti abusivi di case. Qui è Swiss Info dalla Svizzera. A titolari l'Italia cede il passo a una norma che inasprisce il reato di occupazione abusiva di abitazioni. Una norma, preciso io, non ancora legge, avendo superato un solo esame parlamentare, comunque che con ogni probabilità non troverà ostacoli nemmeno al Senato. Praticamente si ipotizza fino a sette anni di reclusione per chi entra nelle case non abitate o ammazzonate per qualche tempo. Con le carceri già così affollate, una misura assurda fatta solo per i titoli dei giornali, dicono le opposizioni. Basterebbe, dico io, dare maggiori poteri di sgombro alle forze di polizia in modo che gli immobili possano essere restituiti subito ai legittimi proprietari, che oggi come oggi, quando si trovano la casa occupata, per di più ne devono stare fuori per mesi e mesi. E sempre a proposito della voce grossa del nostro governo, il Paese da Madrid dà notizia che un giudice in Italia sospende il blocco della nave di soccorso di medici senza frontiere, sequestrata due settimane fa in nome della legge. Si tratta della Geo Barents e la sentenza del Tribunale di Salerno richiama il diritto di esercitare l'attività di soccorso in mare, il perseguimento di obiettivi umanitari di indubbio valore in ossequio al sistema di valori costituzionali e del diritto internazionale. A forza di dissequestri, speriamo bene che prima o poi qualche giudice si decida sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto piantedosi che è alla base di tutti. Voltando completamente pagina, abbandonando la politica, gli ostricoltori italiani sognano le perle del Mediterraneo riscaldato. Il titolo di un articolo, questo di Reuters, che ci fa in un qualche modo vedere come il bicchiere possa essere anche mezzo pieno, pur se di acqua di mare calda però. Che cosa succede? Succede che il riscaldamento del Mediterraneo permetterà presto di coltivare le perle anche nei mari europei, anche in Liguria. Qualcuno ha già cominciato, in realtà, come da una decina di mesi nel Golfo dei Poeti, dove sono stati avvistati i primi esemplari di pinktada radiata ostrica perlifera originaria del Mare Rosso, con tutto che le acque Liguri restano tra le più fredde del Mediterraneo. Un allevatore locale di ostriche alimentari raggiunto da Reuters e che è già in attività da una dozzina di anni appunto per le ostriche da servire sul piatto, ha confermato di stare valutando la possibilità di avviare una produzione di perre coltivate e per questo di essere già in contatto con allevatori messicani. In realtà la pinktada radiata è stata già segnalata in Sicilia leggo fin dagli anni settanta, ma solo negli ultimi anni si è spostata verso nord. E, come conclude Reuters, questa è solo l'ultima di una serie di razze aliene ad entrare nel Mediterraneo favorita dal riscaldamento del clima. In chiusura, il più celebre ritratto fotografico di Winston Churchill, scomparso dal Canada due anni fa, è stato ritrovato in Italia. Euronews titola Scoperto in Italia il ritratto iconico rubato di Winston Churchill. Si tratta di una stampa originale del 1941, scattata quando il primo ministro britannico aveva 67 anni. Erano gli anni del secondo conflitto mondiale e l'autore dello scatto fu il fotografo armeno canadese Yusuf Karsh e la foto fu fatta durante un discorso di Churchill al Parlamento canadese. La polizia di Ottawa l'ha scoperto a casa di un collezionista di Genova che l'aveva comprata a un'asta di Sotheby's ignaro del fatto che fosse stata rubata. Per quanto riguarda la foto, l'anziano ma sempre combattivo leader appare con un cipiglio bellicoso perché, racconta il fotografo, gli avevo appena sfilato il sigaro dalle dita. Era il 1941, come vi dicevo, e nel 1945 apparve sulla copertina della rivista Life. Dal 1998 la stampa originale era appesa alle pareti dell'ufficio del Presidente del Parlamento canadese e solo nel 2022 un funzionario si accorse che nella cornice qualcuno aveva messo una stampa al posto suo. La stessa immagine, tra l'altro, di Churchill che nel 2016 finì sulle banconote da cinque sterline della banca d'Inkinter. Finisce qui la settimana di Ristretto Italiano, auguro un buon weekend a tutti e l'appuntamento è a lunedì prossimo.